E' mercoledì 26 maggio, buongiorno e bentrovati con la prima edizione del nostro telegiornale, questa mattina in regia Gianfrancesco Iagaruso. In apertura il bollettino Covid diffuso ieri sera dall'ASREM. In regione nelle ultime 24 ore nessun decesso e nessun ricovero. I positivi sono 9 su 448 tamponi processati con un tasso di positività al 2%, ci sono anche 21 guariti. Il numero degli attualmente positivi scende così a 174. Migliora ancora la situazione all'ospedale Cardarelli, dimessi due pazienti, il numero dei ricoverati scende così a 15. Per quanto riguarda i nuovi casi di contagio, 4 sono a Palata, 2 a Termoli e Venafro e infine un caso a Carovilli. E adesso andiamo a Busso dove si indaga sul presunto avvelenamento di 5 cani, un episodio che ha destato allarme nella piccola comunità. Le indagini sono in corso e il sindaco annuncia che l'amministrazione comunale si costituirà parte civile in un eventuale procedimento penale. Il servizio è di Enzo Luongo. L'episodio risale a 10 giorni fa, una strage di cani a Busso, una piccola comunità sconvolta per un episodio che ha turbato tutti. Qualcuno avrebbe deciso di uccidere gli animali che circolavano in paesi almeno 5 utilizzando del liquido blu, probabilmente un antigelo, mischiandolo con della pasta. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. il sindaco Michele Palmieri attende l'esito degli accertamenti. Sono in corso delle indagini perché io sono stato messo a conoscenza la mattina stessa degli episodi, vari episodi di avvelenamento di queste povere bestiole. Ho invitato tutti i proprietari dei cani, legittimi proprietari, a sporgere regolare denuncia e loro mi hanno assicurato che l'hanno fatta. Il primo cittadino parla di azione odiosa e annuncia sin da ora che in un eventuale procedimento penale su quanto accaduto la sua amministrazione si costituirà parte civile. Il reato è chiaramente un reato odioso che noi stigmatizziamo con tutte le nostre forze. Però nello stesso tempo voglio in qualche modo tutelare l'immagine del mio paese e dei miei cittadini. Però io posso garantire che il comune è in prima linea nella lotta contro il randaggismo. Ci siamo in qualche modo rivolti a tante associazioni animaliste per fare in modo che alcuni cani randaggi potessero essere adottati dalle famiglie. Il nostro insediamento dal 2017 non meno di una decina di cani sono stati adottati e quindi abbiamo bypassato il passaggio in canile che è sempre traumatico per i cani. Oltretutto le posso dire anche che il comune si è caricato con tutte le problematiche di bilancio che possiamo avere, si è caricato anche di sterilizzare alcune cagnoline, di microcipparle. Insomma il comune non è inerte. Come posso dire anche che i miei concittadini rispetto alla problematica sono molto sensibili e quindi un episodio non può offuscare l'immagine di un intero paese. Questo ci tengo a dirlo e lo voglio dire con forza perché poi magari si può innescare il cosiddetto concetto di labelling in cui il comune di Busso, il paese di Busso è il paese che avvene nei lancani. Non è così, è un episodio diciamo che è unico. Col diretti in Molise ha preso posizione contro la realizzazione di un impianto eolico a Campomarino attivandosi per una petizione che potrà essere sottoscritta nei mercati di Campagna Amica e nelle sedi territoriali dell'organizzazione. Sentiamo il servizio di Tonino Danese. L'ipotesi di realizzare impianti eolici e fotovoltaici nei territori del Basso Molise ha provocato la netta opposizione di associazioni, operatori, agricoli e non solo, tanto che si è costituito un comitato per la salvaguardia del territorio molisano voluto da Don Nicola Pietrantonio, parroco del santuario Madonna Grande di Nuova Cliternia e da diversi cittadini. Col diretti ha raccolto l'invito del neocomitato e ha valutato la necessità di promuovere una campagna di sensibilizzazione a sostegno della battaglia degli agricoltori contro la realizzazione del parco eolico Campomarino. Nel cuore di una realtà territoriale ha spiegato nella quale agricoltura, ambiente, paesaggio, storia e cultura non possono supinamente soggiacere a meri interessi di parte. L'organizzazione degli agricoltori ha previsto dunque di programmare all'interno dei mercati di campagna amica e in tutti i propri uffici una petizione, ha detto il direttore regionale Agnello Ascolese, rivolta ai propri associati e ai cittadini consumatori per far conoscere ciò che, ha specificato testualmente, sta avvenendo in Molise sulla pelle degli abitanti, la cui aspirazione è sicuramente quella di poter lasciare ai figli e nipoti un territorio curato e ben tenuto, conservato secondo la vocazione naturale dello sviluppo, rispettando i principi tramandati da intere generazioni. Per il delegato confederale col diretti Giuseppe Spinelli, solo insieme si può fermare quello che ha definito uno scempio ambientale che non riguarda solo il Basso Molise ma tutta la regione, a causa della mancanza di indicazioni normative, ha concluso, che stabiliscano quali possano essere le aree idonee alla realizzazione di siffatti impianti. Il mio nome è Tempesta e questo è il titolo dello spettacolo teatrale scritto dalla giornalista e autrice Carmen Sepede e diretto dal regista Emanuele Gamba, che andrà in onda i prossimi 9 e 10 giugno al Teatro Savoia di Campobasso, uno spettacolo dedicato alla vicenda umana e politica e alla tragedia di Giacomo Matteotti. Sarà dedicata allo spettacolo prossimamente in scena e alla figura di Matteotti la puntata di Millibar in onda questa sera alle ore 21. Ospiti in studio, l'autrice Carmen Sepede e l'opinionista Antonio D'Ambrosio. Nel corso della trasmissione le interviste al regista Emanuele Gamba e agli attori Diego Florio e Marco Caldoro. Appuntamento quindi con Millibar questa sera alle ore 21. Si chiude qui la nostra informazione. Passiamo adesso alla Rassegna Stampa. In apertura di Rassegna Stampa diamo subito uno sguardo all'home page del giornale del Molise. Due le notizie in evidenza. Covid nelle ultime ore nessuna vittima e nessun ricovero. Nove positivi su 448 tamponi. Poi la zona bianca. Molise in zona bianca. Domani Toma vede Fedriga e Solinas per le regole comuni. Lasciamo il giornale del Molise e andiamo alla home page di Futuro. Molise anche qui. Dati covid in evidenza. Dati e contagi in Molise. Nove positivi e nessun decesso. Il bollettino ufficiale del 25 maggio 2021. Le altre notizie in evidenza. Boiano. Cultura della legalità. I carabinieri incontrano gli alunni online. Poi la polizia di Stato di Campobasso identifica l'autore del tentato furto presso un magazzino di materiale elettrico. Andiamo adesso a primo piano Molise. Molise al trotto ma Roma rallenta questo il titolo di apertura. Centri vaccinali di nuovo a corto di dosi. Nonostante la media delle inoculazioni giornaliere sia scesa di circa mille unità. Ieri scorte al limite nel pomeriggio la consegna di AstraZeneca. Riserve però per i richiami. Federico dice a Figliolo, quindi il deputato del Movimento 5 Stelle, possiamo raggiungere l'immunità entro giugno. Per favore acceleri, dice Federico. Restiamo sempre su primo piano. Strage di cani a busso, randaggi e padronali uccisi da un mix letale. Esche imbottite di veleno per topi e liquido antigelo indaga l'arma. Poi toma shock sul coprifuoco perché il Presidente dice no, liberi tutti. Il coprifuoco alle 24 anche in zona bianca. Vediamo poi le altre notizie su primo piano. Da Baranello, piccoli carabinieri crescono. L'omaggio a Falcone da Cerce Maggiore. Maltrattamenti aggravati. Si è aperta l'udienza preliminare a carico di due maestre. I serni al voto. Volt chiama i partiti e movimenti a raccolta. Azione Italia Viva però declinano l'invito. Manutenzione. Il Tar dà ragione all'Asrem. Magara assegnata correttamente. Andiamo adesso in taglio alto a vedere le notizie sportive. Il Campobasso vuole chiudere il discorso. Altri tre punti per vedere la C. Vasto Girardi, la squadra di Prosperi contro i Lupi. Senza paura ce la giochiamo. Agnonese. I Granato oggi a Giulianova per terminare con onore il campionato. Lasciamo adesso le pagine regionali e andiamo a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera che questa mattina ha una doppia apertura. Intanto il Premier Draghi che dice vacanze. Il passo sarà pronto a metà giugno. Il Premier sui migranti aggiunge l'Unione Europea non sia indifferente. Poi la notizia che riguarda la tragedia della Funivia. Funivia freno disattivato. I tecnici tra gli indagati sul Corriere della Sera. Questa mattina un'intervista al Ministro del Lavoro Orlando. Nessun trucco dietro il blocco dei licenziamenti. Poi la vicenda Reggeni fu seguito per mesi a giudizio di 007 egiziani. Lasciamo il Corriere e andiamo alla prima pagina di Repubblica. Anche qui doppia apertura. Lavoro ferita nel governo. Questo è il titolo principale. Si parla dei nodi. Nell'esecutivo il compromesso sulla fine del blocco dei licenziamenti. Divide la maggioranza. Il PD a Draghi dice serve un chiarimento. L'ira dei sindacati. Il dietrofronte è un regalo a Confindustria. Ma il Premier dice abbiamo migliorato la norma. Letta il segretario del PD. Aggiunge la sinistra faccia autocritica. Dimentica la giustizia sociale. L'altra apertura invece anche qui riguarda la tragedia di Mottarone. Mottarone il freno disattivato per errore. La strage sulla Funivia. C'è un indagato. Andiamo avanti con la rassegna stampa. Passiamo al fatto quotidiano. Importare il Covid è facile. Zero controlli. Apre quindi con un'inchiesta. Questa mattina è il quotidiano diretto da Marco Travaglio. Si parla di aeroporti. Il nostro cronista dalla costa d'Avorio a Milano. La dimenticanza. Il governo non ha previsto le verifiche. E il Green Pass per ora è solo cartaceo. Scrive il fatto. Andiamo adesso a vedere invece il primo dei due quotidiani romani. Il messaggero. Funivia. Ipotesi errore umano. Questa l'apertura. La pista degli investigatori. Disattivato per sbaglio il freno della cabina precipitata. I carabinieri convocano i sei dipendenti dell'impianto. Scatta il primo avviso di garanzia. Restiamo sempre sul messaggero. Vaccini ai dodicenni. A scuola o dal pediatra. Scrive questa mattina sulla prima pagina il quotidiano romano. Passiamo adesso alla stampa di Torino. Inaccettabili, scrive la stampa, quei bambini morti. Ci sono in evidenza purtroppo due fotografie drammatiche che ritraggono Alan, il bambino rinvenuto morto sei anni fa, e l'altro invece senza nome di questi giorni. Davvero delle immagini terribili. L'altra notizia in prima pagina sulla stampa riguarda invece la tragedia di Mottarone, Funivia e Giallo sui freni lasciati liberi. E passiamo dalla stampa di Torino all'altro quotidiano romano. Il tempo. Si parla di politica in apertura. La patacca diletta ai ragazzi. Una tassa che non incassa. Questo scrive il tempo. Ai diciottenni il segretario PD ha tirato una sonora fregatura promettendo soldi tolti ai ricchi, portando al 20% il prelievo sull'eredità. Sopra i 5 milioni si ricaverebbero, scrive il tempo, solo pochi spiccioli. Nessun milionario pagherebbe, nemmeno in casa Berlusconi, perché ci sono mille vie di fuga, scrive il tempo, che poi si occupa delle vicende interne al centrodestra. In affanno per la ricerca di candidati per le amministrative. Si parla di Roma. Chi lo conosce a Roma? Michetti non decolla. Lasciamo il tempo e andiamo al quotidiano comunista. Il manifesto. Si parla di immigrati. Un'estate normale, scrive il manifesto. Fino a giugno andremo avanti da soli. Mario Draghi non convince i leader europei a cambiare passo sull'immigrazione. Rimanda tutto al prossimo vertice, ma Macron avverte l'intesa non c'è. Oscar Camps dice che i morti di Zuara sono colpa degli accordi con la Libia. Poi il mondo del lavoro sul manifesto. Licenziamenti. Bonomi senza freni. Bonomi è il leader di Confindustria. Il suo vice chiede la testa del ministro Orlando. Passiamo adesso all'avvenire. Prima la persona, così titola il quotidiano della conferenza episcopale italiana questa mattina. In apertura Bassetti dice avviamo il cammino del sinodo al centro relazioni e comunione. Attenzione a poveri e lavoro per i profughi più soccorsi e corridoi umanitari dopo l'intervento del Papa. L'introduzione del presidente della CEI all'assemblea dei Vescovi. Restiamo sempre sull'avvenire. Si parla di immigrazione. Immagini inaccettabili. Draghi vuole dall'Unione Europea impegni sui migranti. Anche sull'avvenire la tragedia di Mottarone e Funivia. Ora si indaga su un blocco al freno. Passiamo adesso al mattino di Napoli. Cure a casa e mini ospedali. Ecco la sanità dopo il Covid recovery. 7 miliardi per realizzare 1.288 case di cura e 381 ospedali di comunità. Tagli ai ricoveri inutili e alle analisi facili. Meno medici di base, più infermieri. Scrive il mattino. Anche qui la vicenda di Mottarone. Funivia si indaga sull'errore umano. Freno disinnescato. Lasciamo il quotidiano campano e andiamo adesso a dare uno sguardo a Libero. Chi ferma l'Italia? La sinistra blocca tutto. Scrive il quotidiano del neodirettore Alessandro Sallusti. Autorizzazioni lente, comitati del no, ambientalisti, codice degli appalti, 739 opere abbandonate per un valore di 72 miliardi. Draghi dice ora si cambia. Si parla poi sempre sul Libero di lavoro. Si parla del ministro del non lavoro. Scrive Libero. L'Orlando dannoso. L'unico da licenziare sarebbe lui. Scrive Libero in prima pagina questa mattina. Andiamo invece adesso a vedere il secolo d'Italia. Il quotidiano della destra che apre con una notizia in realtà già vecchia. Catturato in Brasile il narcos dell'Andrangheta Morabito. È il numero due tra i latitanti più ricercati. Lasciamo il secolo e passiamo alla verità. Fiumi di soldi dietro la transmania. Scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Gender. Un affare alimentato da alcuni degli uomini più ricchi del pianeta. Come ha potuto un problema che riguarda una frazione dell'umanità diventare la madre di tutte le questioni? Si chiede la verità grazie ad associazioni che investono milioni per influenzare l'opinione pubblica. Questa è la risposta che dà la verità questa mattina. Poi le altre notizie in prima pagina. Freno d'emergenza disattivato. In questa foto forse c'è la causa della strage. Scrive la verità. Il mondo del lavoro. Poi licenziamenti. Orlando batte in ritirata. Nessuna proroga del blocco fino al 28 agosto. La cassa integrazione guadagni gratuita prosegue ma industria e imprese edili possono ristrutturare. Lasciamo la verità e andiamo con il sole 24 ore alle notizie economiche. Mattarella la ripresa è avviata. Apre quindi con le dichiarazioni del capo dello Stato questa mattina il quotidiano di Confindustria. Si parla di economia post-Covid. per il capo dello Stato l'uscita dalla crisi sarà veloce ed efficace. Il ministro Franco dice possibile crescita del PIL 2021 superiore alle previsioni. E in conclusione della nostra rassegna stampa come di consueto diamo uno sguardo alle notizie sportive con la Gazzetta dello sport. Si parla di panchine questa mattina. Innanzitutto dell'Inter Conte. Inter divorzio scrive in prima pagina la Gazzetta. Tecnico e club distanti. Si tratta sulla buon'uscita. Incontro con la dirigenza. È necessaria una plusvalenza di 100 milioni e la cessione di almeno un big. Poi anche sulla prima pagina della Gazzetta la Juventus Allegri Juve. Area di nozze. Contatto con l'ex allenatore durante la partita del cuore Agnelli stringe per anticipare Real e Paris Saint Germain. Bene con le notizie sportive si chiude la nostra rassegna stampa. L'appuntamento alle ore 14 con il nostro telegiornale. A voi tutti. Buona giornata.